Chi lo sa se parlerò della bellezza? Forse no. Vi racconterò una storia. C'era una volta un paese meraviglioso, il più bel paese del mondo, quel paese c'è ancora naturalmente del nostro. Tutto contornato dalle Alpi, con delle pianure stupende sotto le Alpi e poi cominciano le colline e poi cominciano gli appennini e poi si arrivi in fondo con quel triangolo fantastico. E in questo paese, che tutti hanno sempre voluto dai Celti a Nibale, tutti hanno voluto l'Italia, va bene. In questo paese naturalmente abitavano tante persone, abitavano dai tempi antichi, però una volta il paese era pericoloso e quindi la gente abitava in poche città e in tanti paesi, ma queste città e questi paesi erano tutti incontornati da mura perché fuori era pericoloso, fuori c'erano i boschi, c'erano i lupi, c'erano i briganti, per cui la gente si raccoglieva intorno e viveva in questi piccoli paesi, costruiva delle mura che li difendessero. Certo, le mura non potevano essere enormi perché costruire delle mura costava un sacco di soldi, mantenerle anche, poi presidiarle pure. E quindi all'interno i paesi erano abbastanza piccoli e le strade erano strette fra una casa e l'altra, le case avevano poca aria perché non c'era tanto spazio. Però c'erano anche delle belle piazze all'interno perché non era mica dei formicai e sulle piazze dava la chiesa, nelle piazze ci si trovava, la piazza era un po' la Gorà, no, era un po' dove i greci si trovavano a chiacchierare e poi c'era la chiesa, ripeto c'erano le grandi processioni. Oggi i preti non ci sono più, una volta ci erano un sacco di preti e quindi uscivano che i baldacchini e poi tutti i chirichetti e anche quelli che magari non ci credevano tanto, andavano anche loro, anche i briganti andavano, perché poi i briganti si sono stufati di vivere fuori e sono andati a vivere anche loro nei paesi, nei palazzi, oggi vivono nei palazzi più importanti. Ma fatto sta, insomma, questo paese meraviglioso fu quello che poi nel 1338 Ambrogio Lorenzetti dipinse sulle mure del Palazzo Pubblico di Siena, quella città meravigliosa, chiusa con tutte le porte perché poi la mattina si aprivano le porte e la gente andava in queste campagne stupende e coltivava le viti, le messi, era una vita straordinaria, il paesaggio, l'uomo ha formato il paesaggio con le sue mani, il paesaggio italiano che oggi noi ne abbiamo perso un po', ma ce n'è ancora tanto di questo paesaggio stupendo. E poi però quando veniva buio, appunto i lupi, i briganti, tutti tornavano nei loro paesi, si chiudevano le porte e si stava bene all'interno di questi paesi, di queste città, si stava sicuri e ci si conosceva tutti perché si viveva in poco spazio e poi si aprivano le osterie, si aprivano le bettole, si aprivano anche le case chiuse, una volta c'erano adesso non ci sono più, insomma era una vita che Ambrogio Lorenzetti dipinse come il buon governo. Poi vennero i signori, vennero gli este, vennero i medici, vennero i farnese, quindi forse c'era un po' più di sicurezza, forse probabilmente, forse i lupi a un certo punto non c'erano più perché non c'era neanche il WF ancora che li proteggeva, per cui evidentemente non c'era più nemmeno bisogno di chiudere le porte la sera e poi quando c'erano le grandi guerre le bombe cadevano dal cielo, quindi non c'era più nemmeno bisogno delle mura e quindi a un certo punto si cominciò ad andare a vivere fuori dalle mura e una casetta qui, una casetta lì, poi a un certo punto c'era un gran baccano e il fabbro faceva un casino d'inferno e il falegname faceva un sacco di polvere, quindi era meglio che andassero fuori dalle mura perché tanto i pericoli erano uguali dentro e fuori e quindi e poi dopo per fortuna comunque poi arrivarono anche i re, arrivarono in Savoia e c'era anche il papato che faceva tutto quello che non faceva, quello che diceva Papa Francesco faceva ben altro il papato a suo tempo e insomma fatto sta che però le condizioni di vita migliorarono anche obiettivamente, gli italiani diventarono più ricchi e quindi si cominciò appunto quelle piccole fabbrichette, il fabbro, il falegname si ingrandirono fuori dalle mura e le città diventarono quindi, nelle città ci fu bisogno di più spazio e quindi le strade strette delle città diventarono dei grandi viali, dei grandi viali alberati, meravigliosi, si costruivano giardini pubblici stupendi, grandi come il parco Sempione di Milano, come la villa comunale di Napoli e poi delle grandi piazze con i monumenti, ai principi, ai re, alle regine, a tutti quelli più importanti del mondo, era molto bello vivere nelle città e nei paesi, obiettivamente c'erano un po' meno soldi per cui i grandi viali alberati e non ce ne erano mica poi tanti e quindi cosa successe nei paesi? Successe che la gente appunto cominciò, siccome non c'era tanto spazio, a uscire e quindi, e poi ecco, arrivarono anche le grandi fabbriche naturalmente, quindi arrivò le fabbriche che costruiva tante macchine, arrivò la fabbriche che costruiva tante gomme e quindi costruivano delle grandi case per tutti gli operai che venivano anche dal sud per mandare avanti queste fabbriche e però la gente, come dicevo prima, a stare meglio. Nelle case c'erano i bagni, la scuola divenne obbligatoria, nacquero i sindacati, tutti, insomma, gli ospedali, cioè la società obiettivamente, insomma, tutti noi viviamo meglio di come si viveva nel medioevo, su questo non ci piove, però certamente, certamente cos'è successo? Certamente è successo che tutti i paesi, tutti i mille paesi, sono 7.000 in Italia, forse non tutti, ma la stragrande maggioranza, e cominciarono a perdere significato, perché i figli di chi stava nei paesi erano abbastanza riusciti, quindi cominciarono a fare un po' di soldi e quindi costruirono un figlio una villetta, un altro figlio un'altra, la figlia invece andò a abitare col figlio di un'altra famiglia che sono costruendo la villetta, i nonni continuavano a vivere nel paese, anche i genitori, ma quando morirono i nonni, quando morirono i genitori, quelle case in paese non le voleva più nessuno, perché le nuove case avevano il garage per la macchina, avevano un piccolo giardino, magari anche una piccola piscinetta, chi lo sa, quindi ovviamente era più gradevole. E poi, cosa vuoi, una volta i negozi erano tutti nei paesi, però una volta si andava a piedi in bicicletta, ma perché andare a piedi in bicicletta, che adesso ci sono le macchine, però una volta c'era la 600, poi venne la 1100, poi venne la Peugeot, poi vengono i SUV, perché oggi tutti devono avere i SUV e quindi non c'è mica posto nei paesi per andare a fare la spesa col SUV, e quindi i negozi si trasferirono fuori, là vicino alle case, dove le strade sono più grandi, le provinciali, e quindi la farmacia, il macellaio, la cartoleria, la merceria, chiusero tutti, e quindi nessuno aveva più nessun bisogno di andare in paese, perché era tutto fuori. Per fortuna in paese c'era la chiesa, perché costruire delle chiese così belle come quelle che c'erano una volta costa un sacco di soldi. E quindi, però in chiesa la gente ci va mica tanto, oggi si ci va per la comunione, non si sposta più nessuno se non altro al nord, per fortuna ci sono i funerali, per cui i funerali tutti vanno nelle chiese, almeno ogni tanto si va in centro. Però fatto sta che i centri dei nostri paesi, mentre le città si sono adeguate, i centri dei paesi sono morti. I centri dei paesi sono diventati, come dire, dei nostri paesi, parliamo del Varesotto, ma anche del Veneto, sono diventati in un certo senso le periferie dei nuovi paesi che sono andati all'esterno. E allora la storia che vi racconto oggi, negli altri cinque minuti che ho, è la storia di Morazzone, forse voi conoscete tutti il paese di Morazzone, è uno dei tanti paesi del Varesotto. È un bel paesotto, ma non è Castiglione Olona, è un bel paesotto, ma neanche tanto bello. Però ci sono tutte le sue vecchie case, non c'è niente di speciale, c'è un bel campanile, ci sono due belle ville signorili, però ci vivono solo i signori, c'è una bellissima chiesa, si vede lì nell'angolo, costruita a sinistra da Simone Cantoni, un grande architetto e tardo e neoclassico lombardo. In questo paese, in quella casa che vedete lì, viveva una signorina piuttosto bizzarra, la quale, quando morì i suoi genitori, negli anni 50, chiuse casa e non entrò mai più nella sua casa. Andava in giardino, ma in casa non è più andata, si vede qualche ricordo non felicissimo. Fatto sta che questa casa è rimasta una specie di Pompei dell'Ottocento, perché era ancora arredata, e tuttora lo è, con i mobili scelti dai nonni e poi conservati dai genitori, dove tutto è rimasto come quando i nonni di questa signorina l'arredarono. Tutte le stanze, letti, le lenzuola, le tovaglie, tutto piegato come si faceva una volta, negli armati pieni di cose, le vetrine piene dei bicchieri, del rosoglio, dello champagne, tutti i servizi di piatti, tutte le pentole, le televisioni a schermo piatto profonde così. Cioè un miracolo, io non ho mai visto in vita mia una casa talmente ben conservata. Allora la signorina, morendola, lascia il fai, pregando il fai, in eredità, pregando il fai di fare in modo di raccontare ai morazonesi la loro storia. Allora, noi siamo abituati di solito a gestire grandi ville come Villa Panza, Villa Bozzoro, dei pezzi d'Italia, di costa, eccetera. Però l'idea di gestire una sorta di racconto borghese, normale, come tanti ce ne sono stati, che è quello come dire dove hanno vissuto le persone che hanno fatto l'Italia, perché naturalmente il nonno era garibaldino e poi il bisnonno era cacciatore. Vabbè, fatto sta. Cosa faccio? Vado al sindaco. Ci sono questi giovani nuovi sindaci che hanno capito che la morte dei centri storici dei nostri paesi è un dramma. E quindi insieme abbiamo detto, io accetto l'eredità, però se tu mi dai una mano, cioè se il progetto è quello di riportare il rossore sulle gotte di Morazzone, perché a Morazzone non c'è più un negozio, tranne quello che si vede qui, quella carta libreria edicola e poi c'è un ristorantino, ma noi restaurando la casa e riportandola al suo originario splendore, che poi è quello lì, non bisogna toccare niente, bisogna solamente togliere queste ragnatele gigantesche che sembrano tessute nei cotonifici di Bustarsizio dell'Ottocento, è una cosa da pazzi, perché nessuno è mai più entrato per 80 anni in quella casa, è anche un giardino incantevole con le palme, la peschiera, la vogliera, un sogno. Allora la gente, forse di Morazzone, tornerà in centro a vedere e dirà, ah, te sei, mi ricordi, la mia nonna l'aveva in Sciancalè, lei stessa, non parlo inglese, ma un pochino dialetto, va bene, pazienza. Allora, e questo forse darà ai morazzonesi il motivo di ricordare che anche loro, ma poi noi porteremo anche 20, 25, 30 mila visitatori l'anno a Morazzone, che dovranno girare per il paese, allora il ristorante farà più coperti e allora il cortolonaio magari venderà più quaderni e poi, ecco, e poi apriranno forse dei nuovi negozi, apriranno dei negozi di artigiani, li fanno del buon vino e quindi venderanno il vino, cioè il centro storico forse tornerà. Allora, perché dobbiamo tornare a credere nei centri storici dei nostri paesi e dobbiamo evitare questa tristezza che sono diventate le periferie di loro stessi? E perché nel centro storico c'è la nostra memoria? Sono nati i genitori, sono nati i sono nati i bisnonni, ci sono le storie che uniscono i cittadini di Morazzone, i cittadini di Azzate, i cittadini di Caronno Pertusella, i cittadini di Gavirate. Uno è un buon cittadino del mondo, se è un buon cittadino d'Europa, se è un buon cittadino d'Italia, ma se è un buon cittadino del suo paese, se è forte delle sue tradizioni, se è forte dei suoi ricordi, se sa anche intessere, come ha detto Papa Francesco, delle relazioni che oggi purtroppo in quella marmellata di paesi non si hanno più. Una volta tutti si conoscevano in paese, se un bambino andava al cartolaio e diceva compro un quaderno, poi passa la mamma, ma certo Roberto, e poi si giocava in piazza, Roberto a dormire, no perché Giovanni sta ancora alzato un quarto d'ora, va bene, si parlava tutto così. Era una relazione fatta di voci, di volti, non era una relazione via web. Ecco, io penso che se noi torniamo a credere nei centri storici dei nostri paesi, torniamo a credere in noi stessi, siamo più forti, ci abituiamo a ricreare quelle relazioni che ci aiuteranno ad essere dei cittadini più consapevoli, perché forti della storia non soltanto dell'Italia, non soltanto della Lombardia del Veneto, ma forti della piccola, fondamentale storia del paese nel quale siamo nati. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.